La nostra azienda si occupa dal 1990 della produzione di purè di frutta per la miscelazione. Oltre al comparto delle purè di frutta che abbiamo lanciato noi come innovatori, abbiamo una grande linea di sciroppi, salse, basi cocktail e semilavorate per la mescita. Quali sono le novità che presentate? Oggi qui a Sige, in anteprima internazionale, presentiamo tre nuove purè di frutta al 100%. Abbiamo incominciato a produrre ora la purè di bergamotto che compriamo dalla Calabria, un altro citrico che prendiamo dalla Corea, lo Yuzu, quindi dall'altra parte del mondo, e per tornare in Italia l'arancia rossa che compriamo dalla Sicilia. Oltre alle tre purè 100% frutta, presentiamo un bitter analcolico e quattro salse per topping, per la decorazione. Sono cioccolato, caramello, dulce de lecce e frutti rossi. E per cui scegliere Mixer? Mixer è un prodotto al 100% di frutta. Questo vuol dire che per fare 100 grammi di prodotto Mixer utilizziamo 100 grammi di purè di frutta pressata naturale. Oltre a questo la purè da noi non viene lavorata ad alta temperatura, ma ha un basso procedimento termico che ne mantiene e ne preserva le qualità naturali. Quindi è il prodotto che permette di avere l'autenticità del sapore della frutta dentro la bottiglia. Oltre a questo la purè da noi non viene lavorata ad alta temperatura,